Benvenuti in questo video sono Regione95 e oggi siamo su Fortnite Sportive o Fortnite Racing chiamatela ma volete lo chiamerò Sportive perché ormai l'ho deciso Sportive e lo continuo a chiamare così Nello scorso episodio avete visto il tutorial, il trailer e la prima gara e oggi andiamo a fare la seconda e forse la terza gara dipende quanto duri la gara perché non durò tantissimo quindi magari potrei caricarvi più partite nella stessa gara in modo da arrivare a 10 minuti, 10-15 minuti e fare un episodio buono, buono, giusto, giusto non è troppo lungo, è troppo corto, una cosa non la vedi in mezzo, 10-15 minuti dovrebbe essere giusto e va bene adesso aspettiamo che carichi la partita, avete visto comunque che non vi posso caricare la moneta musicale perché c'è il copyright, batti la scarica che dovrebbe durare per il video almeno senza cambiare il joystick, però mi tocca cambiare la schermata, fare un casino, fare un quant'altro sta partendo la gara quindi va bene dopo cambierò il joystick quindi non ci sarà più il problema del joystick carico quindi tanto l'altro è già carico quindi posso già utilizzarlo va bene vediamo com'è questa gara, vediamo come partecipare, come fare cose e vediamo come va adesso vedremo, ok siamo già partiti, ok siamo in 12, io sono abbastanza indietro allora come fanno a fare quella mossa lì per andare un po' leggermente avanti, non lo so quindi ho posizione argento ok, ok questa gara l'ho già fatta, non in video ma l'ho già fatta poi è un po' complicato ok poi sono un po' di barriere, ecco sapevo che la perdevo la barriera ok dove devo salire qua sopra va bene recuperiamo questo ah dai che ti sorpasso vai via levati sempre in mezzo io passo sempre davanti di me devo recuperarlo eh recuperarlo, ok l'ho recuperato va bene siamo ottavi, settimi scriviamo tutti gli ostacoli grazie per la spinta anche se comunque è passata avanti ok devo riuscire almeno a quinto almeno tra i primi cinque ancora tu non so se sei lo stesso eh dai 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 se la posso fare devo prendere la scia ok ok andiamo bene ho anche dei tubi di riserva quello l'ho appena utilizzato l'ho utilizzato anch'io ok dai sul secondo terzo terzo va bene va bene dai che passa avanti primo no secondo no pensavo fossi primo cavolo prima gara pensavo fossi primo prima di oggi quanto vi è battuto di di quattro centesimi ah potevo essere io davanti le musiche di fuori teneresi che non c'è il copyright vero? no beh se c'è copyright su questa è copyright su per tutto eh perché qui non stiamo scherzando aspettiamo che arrivino stanno messo molto più di me e poi facciamo subito partita perché facciamo già la seconda visto che durato 44 minuti e 40 secondi il video riusciamo a fare anche la seconda ma vedete i risultati pensavo mi desse di più seconda posizione mi devi dare più esperienza vabbè aspettiamo che arrivi il dodicesimo ci sta mettendo tantissimo oh è arrivato è arrivato ci ha messo 3 minuti e 22 ci ha messo un minuto e più di me prossima gara vediamo andiamo con la quantità di carica le gare dovevo caricarle bene quindi non dovrebbe essere nessun problema naturalmente dopo questo video devo andare a fare altre cose quindi devo sto cercando di fare il più fretta possibile come si chiama il dodicesimo? che resta di nuovo si è messo il dodicesimo dai ma non puoi metterti quel nome di che brutto nome cioè allora uno mentre carichi vi spieghi questa cosa allora ognuno ha un nome ok ha caricato uno ha un nome vuoi dire che sto dicendo la cosa giusta quindi se tu ti chiami Giuseppe Stefano Giovanni Franco usalo quel nome lì Pinco Pellino usalo usalo perché è il tuo nome e non è brutto oh la fai parte di un gruppo sei su set come sei su set passiamo sull'inset non partiamo sull'inset siamo in dodici dovremmo essere boh aspettiamo vediamo se parte se uno ha un nome lo devi usare perché è il tuo nome cavolo se non ti piace il tuo nome non ti piace niente io infatti uso il mio nome come come account come come ogni cosa uso il mio nome fatte per alcune eccezioni alcune eccezioni le faccio anch'io però non è che storcio il nome non metto Giampiero Santarello metto Johnny perché è il mio nome quindi metto questo vedi loro come fanno a fare i salti che il mio non lo fa ok partito siamo in dodici a questo punto o undici dodici presumo allora vediamo di partire bene ok 24% le altre non le macchine comprate ok questa non mi ricordo di averla fatta levati di qua che devo passare io non mi torcetta l'abituale perché sennò la gara non mi fate andare storto perché sennò non andiamo bene bella stagana mi piace mi piace anche se forse perderò perché non arriverò primo ma ma io ci provo come solito è è un po' difficile curvare no non mi storcere passa senza storcermi hai già secondo giro ok ok voglio cercare di attivare più curve possibili ok quello l'ho passato benissimo devo prendere questo ok l'ho passato devo recuperare gli altri sono i primi tre quelli no non mi venire contro che se no facciamo una brutta fine ma lui è al turbo ce l'ho pure io però non voglio utilizzarlo adesso ok secondo non mi passate secondo mi va benissimo niente mi passa quello quarto ok dai sono arrivato secondo e quarto il video è durato dieci minuti quindi va bene così dai secondo e quarto ci ho messo veramente poco rispetto al primo quindi pochissimo anche rispetto al secondo e al terzo molto meno rispetto al secondo e al terzo manca veramente poco però almeno vi ho fatto questa gara qua classificata vediamo ci saliamo un po' di pochissimo proprio devo fare tante gare per salire in classificata oro devo arrivare a lega oro per prendere la skin quella che c'ha nelle sfide delle skin di questa modalità qua va bene facciamo tornare alla lobby così chiudiamo il video ok dai abbiamo fatto dieci minuti con un po' di intro due partite secondo me va bene come video se volete video più lunghi magari me lo dite io vi porto carica 15-20 minuti faccio altre una o due gare e vi faccio un video un po' più lungo però in questa gara praticamente vi posso dire che non mi curvava bene perché io facevo quadrate e strezzata e lui mi faceva fatica a curvare quindi non lo so come funzioni questa OEM ho sbloccato le macchine le gomme no non ti bugare ti prego ti prego ti prego ti chiedo per favore non ti bugare non puoi caricarmi tutto il tempo questa questa schermata va beh se si sblocca schiaccieremo andiamo avanti ma intanto vi chiudo il video perché purtroppo qua ci sono i bug quindi è un casino e sia un problema di Fortnite perché fa fatica a caricare perché c'è troppa roba nel gioco e quindi fa fatica a caricare e sia un problema mio perché c'ho la connessione che non è che sia proprio buona a fare i caricamenti quindi ci mette un po' e quindi ci blocchiamo nelle varie cose infatti le live non so come riesco a farvele perché ci sto provando ma è un po' difficile visto che sono tutti questi caricamenti se arrivo a nuovi livelli mi fa sempre il caricamento delle stelline e quindi non riesco a andare avanti rimaniamo bloccati in questa schermata adesso vedrò se queste schermate si sbloccano o che si sbloccano forse si sbloccano si è sbloccato ok si è sbloccato ok avete visto che c'è un problema di fondo che non riesco a caricare bene le cose quindi adesso fatemi cambiare modalità perché adesso basta magari si provo più tardi rocket racing adesso voglio fare battagliere armi un attimo in modo da mettere questa modalità così almeno non si baga niente ok va bene io spero che il video vi sia piaciuto come al solito questa è la nuova playlist spero che vi piaccia farò un po' di gare ogni tanto le gare saranno anche un po' ripetitive perché saranno sempre le solite piste magari quando avanzerò di lega si sbloccaranno nuove gare quindi magari potremmo provare quelle però sono casualmente quindi possono uscire quelle prima possono uscire quelle dopo possono uscire un po' a caso quindi niente io spero che il video vi sia piaciuto like commenti per darmi la vostra opinione riguardo a questi video questa serie condividete insieme anche a quella di lego perché farò anche la serie di lego e non so quanto durerà perché dipende da quanto dura il gioco però cercherò di fare il prima possibile per farvi perdere il meno tempo possibile condividete per riuscire aiutare il canale a crescere iscrivetevi al canale se è nuovi così più gente sa meglio è arriviamo a grandi treguardi detto questo ci salchiamo e buona visione alla prossima partita detto questo a presto a presto a presto a presto a presto